La conferenza dei sindaci ha confermato la possibilità di aggiungere altre 4 ore, ma solo per quest'anno. Se noi vogliamo e come faremo continuare a far frequentare più ore di asilo come gli altri bambini, Ettore, saremo lì presenti sempre noi, famiglia. Ettore, il piccolo di Rossano Veneto affetto da una patologia che impone la presenza di personale formato perché possa frequentare le lezioni, avrà qualche ora in più di copertura alla settimana. Una buona notizia, ma siamo molto lontani dalla copertura totale di cui ha bisogno il bambino. E soprattutto, al rientro in classe a settembre non è garantito che queste ore in più vengano confermate. Chi copre il resto? Mamma e papà, naturalmente. Ma sentite quali scelte dovranno compiere. Mia moglie sta affinando tutti i permessi possibili e immaginabili, è finito la 104, e quindi a breve dovremo trovare una soluzione abbastanza trastica, che probabilmente è quello che... non abbiamo tanta alternativa al fatto che si licenzi, insomma. Sì, avete capito bene. Per poter garantire la permanenza a scuola al proprio bambino, la mamma di Ettore si dovrà licenziare. Oltre a negare il diritto a quello che è l'istruzione, si nega il diritto anche al lavoro. Ed è proprio per difedere i diritti dei bambini come Ettore e delle loro famiglie che questi genitori non hanno intenzione di mollare, neppure per un attimo. Andremo avanti con le nostre battaglie appunto per vedere riconosciuti i diritti di Ettore, i diritti di tutti i bambini, perché appunto come Ettore ci sono tantissime altre famiglie qui nel Bassanese, nel Vicentino, ma in tutto il Veneto, un po' in tutta Italia.